Sono iniziate qui al Bosco Tenso le operazioni di recupero delle carcasse degli animali annegati nella tocce sabato mattina. Tecnicamente come vi siete organizzati? Tecnicamente grazie al supporto dei carabinieri forestali ma soprattutto anche del servizio veterinario interzonale oltre che quello locale stiamo recuperando con dell'attrezzatura, con dei ragni e con delle pale le carcasse senza ovviamente toccare nulla con gli operatori a terra con degli appositi camion dell'ASL piemontese. Li porteremo provvisoriamente per 12 ore presso l'ex poligono militare di Cuzzago con un trattamento di calce e domani mattina alle prime luce dell'alba arriverà una ditta da cuneo d'alba con degli appositi mezzi che poi li porteranno allo smaltimento perso i forni. Quindi ASL e Comune hanno trovato il metodo per smaltire queste carcasse che inizialmente sembrava un po' problematico? Sì, all'inizio si parlava anche di un interramento, io non ero mai stato favorevole a questa soluzione ha trovato conferma anche dopo un consiglio con il nostro geologo interrare così tanti capi avremmo avuto dei problemi di inquinamento alle falde. Come state procedendo per l'individuazione dei capi disseminati lungo il bosco? Allora io ho dovuto fare un'ordinanza sindacale di smaltimento dovuta verso i proprietari delle pecore chiaramente condivisa con loro ben sapendo che non potevano temperare perché sono già in ginocchio dopo questo grave danno siamo intervenuti subito prima anche dello scadere dell'ordinanza perché è un problema di igienico sanitario il censimento dei capi li sta facendo i carabinieri forestali coordinati dal colonnello Baldi che ringrazio e noi arriviamo dopo loro man mano dietro con gli operatori per il recupero ho incaricato anche una ditta per il taglio delle ramaglie e delle piante che sono cadute in modo che devono liberarci e creare i passaggi per l'accesso con i mezzi.